Il prossimo pezzo si intitola Renzo, stronzo, bai Lucia Diego, quando è dedicato? Ma che buono, a birra? Quando è dedicato ai maschietti, no, alle femminocce Quando è dedicato ai maschietti invece Giulietta al soffola a bai Romeo Fate voi, insomma, stasera non... Ascente Ascente Vai! Ascente Ascente Clic Ascente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.